La mafia siciliana cambia pelle e ad ogni blitz delle forze di polizia si apprende qualcosa di nuovo, tasselli importanti che però spesso si manifestano quando già la mafia è andata avanti, con nuovi sistemi e nuovi avvicendamenti. Ecco l'ultima dell'operazione antimafia compiuta stamane all'alba, tra gli arrestati Calogero Lopiccolo e Leandro Greco, altri due pezzi da 90 che fanno parte della cupola di Cosa Nostra. I carabinieri li hanno fermati nella notte. A completare il blitz sono cinque arresti eseguiti dai poliziotti della squadra mobile. I militari del nucleo investigativo aggiungono tasselli importanti nella mappa della nuova mafia. Proseguono il lavoro iniziato lo scorso dicembre con l'arresto di 47 persone. I riscontri sono arrivati dal pentimento già noto di Francesco Colletti e di Filippo Bisconti, neo aspirante collaboratore di giustizia. Calogero Lopiccolo, figlio di Salvatore, capo mafia di San Lorenzo e fratello di Sandro, entrambi all'ergastolo, tornato in cella dopo aver già scontato una condanna per mafia. È lui il nuovo capo del mandamento. Leandro Greco, detto Michele, è incensurato. Il detto Michele non è casuale, visto che si tratta del nipote di Michele Greco, il cosiddetto papà di Cosa Nostra. Leandro Greco è il boss di Ciaculli, dove è stata ristabilita la sede del mandamento che ingloba Brancaccio. Un ritorno all'antico, ai tempi in cui dettava la legge il nonno Michele. Lopiccolo e Greco rappresentano la componente giovane della nuova mafia. 47 anni il primo, appena 28 il secondo. Le indagini dei carabinieri li descrivono come i più attivi nella riorganizzazione del Doporrina.